Da Finlandia, da Romania, da Italia in seconda divisione, e poi sei il campionato dell'Europa. Probabilmente ho una delle storie stagione che potete sentire per un campionato dell'Europa dell'Europa. Ma tutto ciò che posso dire è che si crea un caratteristico. Inizia da parte, inizia da parte, inizia da parte. Non potrei trattare nessun momento, nessun season, nessun momento, perché è tutto worth it. Grazie mille. Abbiamo fatto una domanda riguardante il fatto che è partito dal basso, dalla Finlandia, dalla Romania, e poi è diventato campione d'Europa. Non scambierei nessun momento passato in questi anni, crescendo, perché mi ha formato il carattere e mi ha fatto diventare il giocatore che sono. Questo era Rick Higman, campione d'Europa.